Ehi! Ehi, chi mi ha chiuso dentro? Che vi ha preso, gente? Sono chiuso dentro! Che succede? Non ci sono finestre! Non c'è neanche una finestra! No! No! Perché lo avete fatto? Perché? Perché mi avete rinchiuso qui? Perché mi guardate tutti così? Perché? Oh! Non c'erci! Markusson! Markusson, avevi ragione! Avevi ragione tu. Gli uomini sono uguali. Gli uomini sono uguali dappertutto. Un esemplare di questa specie è sopravvissuto. Presenta interessanti somiglianze con i caratteri fisici degli esseri umani. Testa, tronco, braccia, gambe, mani, piedi. Cervello molto piccolo e poco sviluppato. Proviene da un pianeta primitivo chiamato Terra. Si chiama Samuel Comrade. E rimarrà qui, nella sua gabbia dotata di acqua corrente, energia elettrica e riscaldamento centralizzato, finché vivrà. Samuel Comrade è arrivato ai confini della realtà.